In questa registrazione voglio condividere la versione integrale di quello che ci siamo raccontati in una notte di fine estate. Paolo ha un appartamento in Trentino Alto Adige e ha pianificato in pochi anni di arrivare ad eliminare il gas. In questa chiacchierata lui ti racconta come io e Stefano l'abbiamo aiutato a raggiungere l'obiettivo e finalmente si gode il cronamento del suo sogno. Buona visione. Ciao sono Davis di Soluzioni Solari e oggi sono in compagnia di Stefano e di Paolo Donotella per raccontare una storia un po' particolare cioè il percorso per trasformare una casa da presenza di gas a totalmente elettrica, 100% elettrica. Sono quello che si è occupato della parte termica. Io sono quello che si è occupato della parte fotovoltaica di generazione di elettricità. E il protagonista è Paolo e Donatella. Sì, io sono la compagna di Paolo. Paolo, la domanda è una semplice. Raccontaci come, da quando è partita la tua volontà di farla a casa non gas e come si è evoluta nel tempo? Allora, la volontà di eliminare il gas non tanto per i costi ma anche fra virgolette quelli e sono stati delle vici sutrisi che sono capitate sia a me personalmente che alla mia compagna dell'ossio di carbonio che si è impadronito delle stanze. Siamo qua a raccontarla, perciò inutile andare a raccontare quello e il come e il perché e il per quanto. Gas è a casa pericoloso, a parer mio. Poi, nemmeno toccare combustioni. Noi se non le combustioni comportano delle produzioni di ossio di carbonio, ne abbiamo fin troppo, eliminiamo anche quello. Dopodiché facciamo un discorso economico, mettiamoci poi tutto e adesso vi racconto il perché sono arrivato a questo. Io ho una mediocre conoscenza tecnica, sono un perito, ma con questo l'ho fatto un'attività lavorativa totalmente diversa, pertanto le nozioni poche e abbastanza confuse nei tempi. Ho visionato, nel lontano 2014 mi sono raffrontato con Stefano e gli ho chiesto di poter posizionare un impianto fotovoltaico per un'abitazione che è in un condominio. Io sono all'ultimo piano, ma solo per discorso comodo, per la posizionamento e per la visione di pannelli, non è stato facile avere le autorizzazioni. Pertanto, con l'aiuto dell'amministratore, conoscendo le norme, conoscendo cosa, ho fatto abbastanza leva per avere l'opportunità di poterlo posizionare. Sono partito con 3 kg, ma come dicevamo nel 2014, io curioso come una simia, sono andato oltre, ne ho voluto, spingendo forse anche la volontà che non era del tutto consono ai consumi, aumentiamo, aumentiamo, sono arrivato ai primi 5 kW con l'installazione di un cumulo, adesso non so se ne varrà la pena dire marca, ma possiamo anche ometterla, sempre gestita di un notissimo produttore che mi dà l'opportunità di accumularmi quei 7,8 kg di consumo, che per il mio standard qualitativo di vita è sufficiente, perché non ne avrei possibilità di accumularmi di più durante l'anno, perché c'è un periodo estivo che produce molto, ma il periodo invernale che non produce, pertanto la batteria serve per l'orario notturno, piano induzione e la lavatrice si fa di giorno, televisione, che io ne faccio molto uso, ma non sono sumo ombra, che lampade ne abbiamo abbastanza. Praticamente siamo andati a consumo pari a zero, un meno del 10% con i 5 kW e con la batteria. Non mi sono accontentato, ho finito la posizionamento a febbraio 2017, sono arrivato a il ottobre, chiamo Stefano, Stefano mi devi mettere un altro kW, io sono fatto così, i soldi mi bruciano in mano, un altro kW, in questa situazione siamo arrivati, perdonatemi, prima eravamo, sì, siamo arrivati a 6 kW, ok, nel frattempo ho posizionato, vedo i consumi, vedo la produzione, a cavolo qua produco troppo, il mio piacere è arrivare a qualcosa di più, mi informo, inizio ad andare su internet, cerco di qua, cerco di là, chi ne racconta in un modo, chi nell'altro, chiedo preventivi, vengono signori che mi raccontano le favole, a che io faccio domande, le domande vengono eluse in maniera a volte spavale, a forza anche di, non si può dire, di quasi terrorismo, come gli chiedessi il mondo, COP, non si sa cos'è, ma lo fanno in fabbrica, aspetta perché hai fatto un passaggio, dopo il kW di Stefano comincio a chiedere preventivi, ma non volevi aumentare il fotovoltaio? No, no, perdonatemi, volevo cambiare o togliere, meglio, scusate sono un po' veloce nel fare le cose, mi dimentico, volevo eliminare il gas, cioè utilizzare il modo per poter montare una pompa di calore, pompa di calore, di quelle, dalle più comode alle più complesse, a questo, non andiamo a toccare marchi perché possiamo andare qua e raccontarci, sui siti ce ne sono migliaia, fatto sta che un giorno, vedendo di qua, vedo un preventivo di una nota ditta lombarda, che con decina di mila euro mi posiziona il tutto, vado a vedere le tecniche della macchina questo, marchio nobile della vendita, ma non contento, perché come dicevamo prima sono molto curioso, vado a vedere le normative tecniche e gestionali e caratteristiche tecniche delle macchine, sono caduto nell'oblio, nel frattempo le persone vengono in maniera copiosa a casa, ha fatto una decina di preventivi, buoni, non buoni, questo sta a loro, l'hanno fatta secondo coscienza, però macchine sempre uguali, anche dico io vado a comprarmi una 500, voglio correre con la formula 1, non vado, i soldi sono quelli, che vado a fare, lascio stare, allora Donatella mi fa spegniamo i 3000 euro, mettiamo la caldaia come prima, e dico no, 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 allora ritorno a visionare quello che il mercato concede, ascolto di nuovo e dico, io ho il piacere di capire, dandogli la produzione del fotovoltaico, quello questo e quello, la metratura, le caratteristiche della casa, quant'altro, esce, Davis, scusate, Davis viene a trovarmi, preparatissimo, mi racconta alcune cose che probabilmente io avevo anche dimenticato o meglio no, mi mostra il tutto, vediamo, verifichiamo, capiamo cosa c'è da fare, fatto sta che a distanza di tempi molto brevi, 4-5 mesi, la pompa di calore funziona, installata, come io ho voluto, ramicchiata in 60 cm quadrati per altezza di 2,5 m, la pompa di calore posizionata sul balcone, perché io sono in un condominio, come avevamo detto prima, perciò Stefano ha fatto tutto il discorso nella parte elettrica, che come poi si potrà anche, con curiosità, visionare, ha una produzione immensa dal punto di vista, così, di impatto, 7000 kilowatt annui, ma alla fine i conti, senza dover andare a lesinare su quando facciamo la lavatrice, quando facciamo la lavastoviglie, quando facciamo piano in funzione, quando andiamo a fare il phon, per dire, qua si va a ruota libera, a 6 kg di picco, se non anche di più, d'estate, l'inverno si valuta di fare le cose e qua praticamente da marzo il contatore degli assi è stato chiuso. Io, nel mio piccolo, come dicevamo prima, prima di approdare la pompa di calore, ho tentato di imbrogliare le carte con il fotovoltaico, nel senso di ottimizzare le mie spese mettendo un boiler elettrico, che a pari mio è stato valido, perché mi ha fatto risparmiare un bel po' di soldi di metano, perché l'estate non consumavo gas, però la rendita era parecchio discutibile rispetto a quello che adesso, per esempio, 3 kilowatt per tenermi un boiler a 100 litri, meno di un kilowatt per tenermi 200 litri di acqua sanitaria, il che lascio a voi eventualmente, se dovesse avere volontà di prendere questa strada, è a dir poco valida. Non dico costi e cosa, perché quello ognuno ha le tasche e le deve vedere con le proprie possibilità. Non è un tabù avere un appartamento in un condominio, perché le leggi ci tutelano al punto di poterlo fare. E questo è molto importante, perché tante persone non lo sanno. Oppure, io vi dirò una cosa, io 2007 volevo già fare l'impianto fotovoltaico, l'amministratorio all'allora mi ha bloccato. Non si può fare, se vuoi mettere due pannelli termici per acqua termica va bene, altrimenti no. Poi, nel cambio dell'amministratore, abbiamo avuto più dialogo perché amici, ma non solo, tecnici più che altro, siamo andati a vederci le norme, abbiamo in assemblea condominiale dichiarato che l'intento era quello di poter posizionare un impianto, io ho chiesto, l'amministratore senza far nome ha detto, un inquirino ha piacere di far questo, chi lo vuole fare? Nessuno l'ha voluto fare, il tetto ha domina completa a disposizione, pertanto sono, senza andare a dire, 10 pannelli, 11, 12, un sistema fotovoltaico per l'utilizzo di un'abitazione di questo tipo, pertanto ora ce ne sono ben 21 sul tetto che mi stanno dando gioia, perché giorno per giorno quando si apre il tablet, il telefonino, il computer di casa, si viene monitorato, tutto quello che è la produzione istantanea, il consumo, le cose, è avere una propria autonomia gestionale e soddisfacente anche nel dire questo è merito mio e dalla compagna, perché allora è stato facile... Io che ero scettica, mi rendo appunto che comunque è un impianto che funziona e ne alza la pena insomma questa... Bene, una cosa Paolo, tu sei arrivato alla fine e adesso praticamente hai realizzato il sogno della casa novasse, cosa è che potresti consigliare o che potresti dire o che ti spingerebbe a convincere una persona che è di là, che ti sta guardando, a passare una casa novasse, a passare una casa novasse, cioè al di là dello schermo hai uno che sta valutando adesso il pensiero di eliminarlo. Allora, quali erano i dubbi magari che... Intanto, intanto diciamo, sfatiamo il discorso del costo, perché effettivamente a prima botta è l'impatto, dopo sappiamo che fortunatamente sulle legislazioni fiscali, in questo caso io ho 65% di detrazione, mettere una caldaia a combustione mi costava una somma, che a dir poco poi facendo gli screening dei recuperi, io per fare quant'altro, torni a 4.000 euro di differenza. Teniamo presente che io con quella somma lì ho cambiato, climatizzatori, ho un canalizzato per le stanze, ho tutto quanto sul terminale, per tutto wifi, ho un motore di una certa entità insomma. Io posso dire alle persone che si avvicinano, ognuno ha la propria visione per capire un po' la potenzialità che uno vuole ottenere. Il gas, diciamo, è fastidioso per chi sa cosa può creare, chi non ci ha mai battuto il naso. E' un risparmio, perché dicono tutti che si risparmia, se valutiamo il discorso costo di un metro cubo di gas, tecnicamente sulla carta ce ne vogliono 10 kilowatt elettrici, con un COP che dopo una macchina prestazionale può battere al 30%, 40%, teniamo una cosa di media, 50% quando siamo messi nelle caratteristiche peggiori, perciò paghiamo la metà. La luce, chi ha questa intenzione, ci fa un voto voltaico, ha un ingresso che può tarare secondo le proprie disponibilità, come ho detto sono partito da 3 kilowatt, sono 7, la valutazione di capire col GSE, col ritorno, col recuperi e quant'altro, ognuno deve fare il suo conto. Fatto sta che io, conti alla mano, fatti da me fino ad ora, perché nessuno mi ha fortunatamente convinto, perché altrimenti avrei messo la macchina di un altro tipo, costantando 10.000 euro, alla fine dei conti spendendone 3 e avendo una macchina che non va, probabilmente, perché con Davis qua presente, nel mese di marzo, abbiamo fatto le verifiche, io per risparmiare, o meglio, per consumarmi la mia corrente, facevo andare un po' per i calori e i climatizzatori, fatto sta che alle 3 del pomeriggio, pare che continuava a saltare la luce e quant'altro, perché non ce la facevo, perché un po' la batteria era andata in consumarsi e il tempo non era dei migliori, avevo il ghiaccio nel mese di marzo, che non era ghiaccio, ma comunque un qualcosa di bianco, di sostanziale, che probabilmente era qualcosa di diverso dall'acqua, era una patina che copriva tutto quanto il collettore, o meglio, il condensatore della macchina, che praticamente mi portava a non avere l'utilizzo idoneo. Consumi massimi, perché consumava 20-30 kilowatt al giorno per avere una rendita minima. Ecco, questa è la mia storia e se vogliamo valutare i benefici, non sono gli alibili, ve li dovete studiare, o meglio, dovete trovare una persona quale, i corrispettivi, Stefano e Davis, Davis e Stefano, così non facciamo torto entrambi, uno specializzato in una cosa, uno nell'altra, io vi dico, sono soddisfatto, pieno regime, lo farei di nuovo, anzi, lo avrei fatto prima. Anche se i soldi, come dicevo prima, al primo impatto, sembrano cionne non raggiungibili. Io ho fatto un calcolo, così, della serva, in 8-9 anni al massimo, ho recuperato tutte le mie spese, tenendo presente che io non consumo più niente. Se questo fosse, secondo i miei dati, vuol significare che io per 15 e qualcosina più anni vado, sono in consumo zero. Certo, ma probabilmente ci saranno aumenti di questo, di quello o quell'altro, ma potrebbe esserci anche qualcos'altro che si rompe qualcosa, bisogna sostituirlo o quant'altro. Teniamo presente che ho fatto un'assicurazione che non costa nulla per poter assicurare i pannelli. Pertanto con 50 euro all'anno, se qualcuno è curioso anche di sapere questa possibilità. Io non vi dico l'assicurazione mia, comunque quello, ma fatto. E ho assicurato tutto per 30.000 euro, perciò, problema, zero. Una curiosità, dal momento in cui adesso l'impianto è andato a regime, cosa ti è cambiato a livello di abitudini o di stili di vita rispetto a prima? Hai qualche beneficio? Ti è cambiato qualcosa? Allora, finché avevo i 3 kg dovevo stare attento per ottimizzare i consumi. Pertanto bisogna stare lì a guardare quando c'è il sole. E teniamo presente che prima avevo un sistema che non potevo monitorare. Dovevo andare all'inverter e vedere cosa produce e quant'altro. Poi, con Stefano, lo step è stato quello di mettere l'accumulo, ma maggiormente mettere un sistema, vedere in automatico e contestuale la produzione, il consumo e quant'altro. Se avete interessi vi faranno vedere, ci saranno più modelli, comunque il mio vi posso dire che in momento istantaneo vedo consumo, produzione, possibile consumo e prelievo dalla rete e quant'altro. Pertanto io in Valeno sono riuscito a spiegare alla mia compagna che non è molto afferrata sulle cose, però è diventato facile anche per lei. Dico, oh, mi diceva un tempo, posso fare, posso stirare? A cambio, fa 4 kilowattri e mezzo di picco, vai. Adesso non me lo chiede più, c'è il suo smartphone, va, guarda, cacchio, va bene, va lo stiro. Il giorno dopo o il giorno prima, meglio, il giorno prima sappiamo che il sole cresce a determinata ora, tramonta la talità, sappiamo che a quel periodo d'orario abbiamo una produzione valida. fatto sta che io non vado più nulla, come sono abituato, l'accumulo mi dà un'autonomia totale, perciò io non guardo più niente. La lavastoviglie che prima doveva andare in dalle 1 alle 3, adesso va le 11 da sera, non me ne importa più niente. È una sorta di domotica naturale praticamente. Ma è già una domotica in sé, perché quando entri in questo range, se non hai proprio la macchina che ti aiuta, la comandi. Ad esempio, la pompa di calore la gestisco come voglio io, nelle fasi orarie che decido io, come voglio io, dal telefonino, se sono fuori casa, dal computer se sono qua, ho i consumi immediati, realizzati, vi dico, consuma per produrre 200 litri, c'è l'accumulo dell'acqua sanitaria, sono 200 litri di accumulo, poi la temperatura ovviamente può sciamare, ma comunque facciamo 3-4 gocce al giorno e l'acqua non crea problemi. Consumo? Meno di un kilowatt al giorno. Penso a te. E questa è la realtà. In un condominio. 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 Perché è molto importante. E tenete presente che prima, col mio modo già, che nel mio piccolo, nelle mie conoscenze tecniche, senza spendere una che, comprare un boiler dal sito e price, ve lo dico pure questo che mi è scappato, 110 euro di boiler, le tubature che mi sono comprato mi sono fatto da io, da me, e io riuscivo a non pagare il gas dal, ma il problema non è tanto non consumare kilowattora, scusate metri cubi, perdonatemi, è che io avevo, oltre a tutti i benefici, avevo il fisso, è il fisso di un contatore, circa, prossimativamente, sono 150 euro all'anno, spalmatevi durante i mesi e vedete cosa prendete, più il consumo, e il controllo della caldaia, poi, perdonatemi, non sono entrato su questo, allora, visto che Stefano mi ha detto questo, io vado oltre. Su valutazione di fare questo passo è stato anche questo, io consumavo 600 metri cubi di gas per riscaldare l'appartamento di 100 metri quadri, poco potreste dire rispetto magari a un consumo vostro, tenete presente che io già non pagavo il metano per produrre l'acqua calda, non ho i fuochi perché già ho piano cottura, ma solo riscaldamento, però iniziamo a dire, 100 euro di controllo caldaia, 150 di fissi, che poi in parte dobbiamo dire che dobbiamo aumentare la potenza elettrica di casa, però se andiamo a fare troppo lo specifico ci perdiamo nelle voce d'acqua, comunque sono 250 euro fra l'uno e l'altra, mettiamoci che il produce e siamo in autoproduzione, allora vi dirò, stando poi allo scambio sul posto che io adesso, ingrobato nel mio impianto, nel consumo fossero anche fuori fascia di non autoconsumo, di un 2.000, un 3.000 kilowatt, mi viene restituita una gran percentuale, perciò facendo il calcolo, io massimo che andrò a spendere quest'inverno saranno 200 euro, se qualcuno vuole vedere con mano e capire un po', io le bollette le posso mostrare in maniera, un attimino... Se qualcuno vuole, il bolletto gliele mostri, gliele mandi anche da pagare. Ah beh, se vuoi pagarmeli, dobbiamo volentieri. Sì, ecco, no, non c'è niente da dire, positivo è tutto positivo, l'unica cosa che può far paura è l'impatto economico, che se andiamo a scremare sulle situazioni non è nulla di più. Poi c'è da dire che tu hai fatto anche le cose in diversi step. Che mi hai costato anche più. Forse qualcosa, anche perché negli anni quando hai cominciato non c'era ancora le soluzioni con le batterie di accumulo, con i performanti, quindi è anche naturale, forse è stato grazie a questo anche che sei arrivato alla scelta poi definitiva. Ma è un mondo nuovo e chi non lo sa affrontare, o meglio, cavalcare, penso faccia una fessaggine, se uno l'ha possibilità, lo faccia. Dopo. Chi vuole rispagnare, chi non vuole dare. Se io volessi andare con una macchina degli anni 30, un 3.000 cilindrata, devo portarmi l'autobotte dietro. Adesso, se noi guardiamo i motori endotermici, prendiamo anche un diesel di fama, che è un 1.500 che sta navigando su tutte le macchine, ordine e modello, cacchio, si procurano 30 chilometri. Un diesel, allora, diciamo adesso, da 110 cavalli, 1.500, non serve che vi dica i modelli, perché tanto le tecniche le conosciamo, ma le montagne, la Mercedes, la Renault, la Nissan e via discorrendo, la Dacia e quant'altro, sono motori testati. Perciò sappiamo che quel motore odierno, oltre a rispecchiare delle norme anti-inquinamento, produce 110 cavalli e consuma il 3,5%. Se andiamo negli anni 80, ci voleva un 2.000 per avere 70 cavalli. diesel che inquinava, creava problemi, che non aveva un fottio. Perciò, se adesso il sistema fotovoltaico, da quello che posso vedere, non è che possa fare i salti di qualità di raddoppiare la produzione, anche se questo può anche essere, comunque un mio piccolo 1 kilowatt posizionato mi rende 1.100 kilowatt annui. stando sotto una montagna, io abito alla Vela, e pertanto perdo una parte, diciamo, del diagramma, no, la sera, però valutando la cosa, la media, anche se siamo in una zona, diciamo, come latitudine non ottimale, se fossimo in Sicilia ne bastavano 4 invece che 7, però capiamoci che abbiamo tutto da guadagnare. Donatella, te domanda, hai avuto anche tu benefici, cambiamenti da quando il sistema è attivo, da quando funziona rispetto a prima? C'è un qualcosa in cui, sì, mi trovo meglio? Beh, certo, allora io ero totalmente scettica, anche perché non conoscevo questo mondo, insomma, del fotovoltaico e quindi mi sono approcciata con Paolo, ma spiegandomi piano piano, eccetera, è riuscito a convincermi che comunque questa modalità è molto più vantaggiosa che mettere una semplice caldaia, poi togliendo il gas, l'esperienza che abbiamo avuto negativa, insomma, sia io che lui mi ha fatto maggiormente, insomma, decidere per questa soluzione. Poi è ovvio che i vantaggi ci sono, insomma, poi hai libertà totale, diciamo, di accendere e consumare quello che serve in casa senza nessun problema. Il risalvinamento. Sì, sì, poi sai che è tuo, è ancora più importante, anche il punto di protese ambientale. In casa abbiamo, avevamo prodotto quattro cani fumari e un giorno la volevamo farla a vola, un giorno il caminetto, ma chi mi va a fare, lo va a ringanare tutti gli anni. Io riscaldamento pavimento, ho fatto, diciamo, l'imbiancatura dopo la presa in possesso di casa a distanza di dodici anni. Questa è valida, perché se tu hai formi questo, riscaldare i termosifroni, dopo quattro anni bianchi, dodici anni, è un biancato, è l'occasione. No, vabbè, ogni, sì, chi ha la stufa, la stufa usa tutti i giorni. Se noi va a luciare la cosa, un imbianchino per farti casa ci vuole un mila euro. Sì, sì, risparmi di quello. Già 3 mila euro nell'arco del funzionamento. Perché c'è chi dice, io la stufa risparmio. No, non risparmio, lo buttare in un'altra parte. E poi ci vuole il locale per mettere la legna, opprare la legna, e che sia stagionata. O la schiena per portarla su. Vabbè, ma qua in casa sarebbe un po' difficile. Comunque, detta in maniera molto, molto succinta, mi ho studiato di tutti i tipi perché la volontà, come vi dico, le cane fumare in casa, la volontà di fare una cosa e fare l'altra, questa è, mi reputo, di averla creata da me, con l'aiuto loro poi, perché altrimenti io come tecnologia non sono in grado di farlo, però mi dà tutto senza avere spese di nessun tipo. E vi dirò una cosa molto simpatica. Ho i contatori del gas in strada e qualcuno dice, questo non paga, è moroso, gli ha tolto il gas perché c'è il cartellino di chiusura. Fa ridere, fa ridere, fa ridere. E io più quando li sento, sorrido. Sì, non pago più gas, non voglio creare CO2. Questa è la fine del sulto della cosa. E posso adesso arrivare a questo, scusate, loro hanno detto i loro marchi di azienda che sono responsabili, vi dico fidatevi, fidatevi, fidatevi.